ciao sono cristina dal negozio obi di montecatini in provincia di pistoia in questo video vi spiegherò tutti i passaggi per realizzare a casa vostra un albero di natale in stile obi tutto il necessario lo potete trovare nei nostri negozi oppure sul nostro sito obi trattino italia punto it ok cominciamo per prima cosa prendiamo il nostro avete innevato da 180 a 210 centimetri cominciamo a montarlo apriamo bene tutti i rami in modo da evitare che rimangano dei buchi per illuminarlo vi occorreranno almeno tre catene di led a luce calda da 300 led ognuno e una multipresa per collegarle in questo caso abbiamo scelto un albero innevato quindi utilizzeremo delle luci con il filo trasparente se avete l'albero coi rami verdi utilizzate luci con filo verde prima di posizionarle accendete le luci in modo da essere sicuri dell'effetto che volete ottenere partite dall'alto e scendete di ramo in ramo tenendole sempre accese abbiamo scelto decorazioni dallo stile nordico in voga quest'anno che prevede tonalità dal bianco ghiacciato all'argento l'oro fino al verde e al legno naturale per posizionarle vi insegno un trucco potete utilizzare il fil di ferro molto sottile per creare delle composizioni di palline di varie dimensioni che si abbinino bene fra loro posizionate queste composizioni sull'albero anche se contengono palline di grandi dimensioni potete tranquillamente metterle a metà o in alto di tanto in tanto fate un passo indietro per vedere l'albero nel suo insieme in modo da verificare che le decorazioni siano posizionate in maniera armoniosa cosa manca adesso posizioniamo fiori e rami per rendere tutto più vivace cercate di seguire un percorso in modo che il tutto sia armonioso e ora il tocco finale create una composizione da mettere sulla punta io ho scelto dei rami ghiacciati dei fiori e un fiocco di juta questo è il risultato adesso tocca a voi buon natale con obi